Professoressa Gianna Antuoni, che cos'è Eurovote Plus e come funziona? Eurovote Plus è un progetto di ricerca che mira a studiare il comportamento dei votanti quando si trovano a votare con diversi sistemi elettorali. Lo applichiamo alle elezioni europee e sostanzialmente partiamo da due considerazioni. Il Parlamento europeo è eletto con sistemi elettorali diversi, quindi i colleghi che siedono al Parlamento sono eletti con sistemi diversi, questo è davvero tipico del nostro Parlamento europeo. Ed inoltre che non ci sono ancora partiti cosiddetti paneuropei, mentre l'Unione europea ovviamente auspica partiti che abbiano una lista unica in un unico collegio europeo. Quindi quello che noi appunto vogliamo testare è il comportamento individuale dei votanti i quali si trovano ad agire in diversi situazioni, quindi con diversi sistemi elettorali, come cambiano il loro comportamento a seconda del sistema elettorale che hanno di fronte. Chi può partecipare a Eurovote Plus e da quando a quando? Eurovote Plus è aperto da lunedì 5 maggio fino al giorno delle elezioni, possono partecipare tutti i cittadini italiani maggiorenni. Il voto è assolutamente anonimo, sarà utilizzato esclusivamente per scopi di ricerca, appunto per analizzare se e come il comportamento del singolo votante cambia, ripeto ancora una volta, a seconda del sistema elettorale. Voi avete già fatto degli esperimenti in altri paesi in passato, quindi che cosa vi aspettate da questo progetto adesso in vista delle europee? Ci sono stati due grossi progetti, uno per elezioni canadesi e uno per elezioni presidenziali francesi, quelle vinte da Hollande, in cui c'è stato un riscontro diciamo molto grande da parte dei votanti, quasi 22 mila persone hanno votato in Francia ad esempio e si è visto che un 15% di votanti cambia il loro voto a seconda del sistema elettorale che si trova a fronteggiare, quindi ci aspettiamo risultati simili e risultati anche più interessanti perché in più, ripeto ancora una volta, abbiamo la possibilità di votare per liste paneuropee. Quali sono i sistemi elettorali utilizzati in Eurovote Plus? Allora abbiamo scelto i tre sistemi proporzionali più utilizzati in Europa, uno è quello italiano, quindi siamo familiari col sistema delle liste bloccate, un altro è invece quello con liste aperte, come quello francese, in cui quindi si può scegliere il candidato all'interno di una lista e infine un sistema da noi molto distante che è quello appunto del voto accumulato disgiunto, l'elettore infatti ha a disposizione 10 voti e può votare sia per liste diverse e all'interno delle liste può dare fino a due voti per ciascun candidato. Vediamo come si vota, il sito è appunto eurovoteplus.eu, come vedete ci sono i vari paesi europei coinvolti nelle elezioni, basterà selezionare l'Italia. Nella pagina di Benvenuto troviamo sia la descrizione precisa dei tre sistemi elettorali, che è il senso e il significato dell'elettorato paneuropeo e quindi partecipare al voto online, quindi chi vuole può farsi anche un'idea più precisa dei vari sistemi vigenti nei vari paesi europei. Se clicchiamo su partecipa al voto online c'è un modulo di consenso appunto per la privacy, si clicca accetto di partecipare e iniziamo a partecipare con il sistema attualmente vigente in Italia che è quello delle liste bloccate. Abbiamo quindi sette gruppi parlamentari attualmente presenti nel Parlamento europeo e dieci candidati che random sono selezionati nel momento appunto in cui noi scegliamo il voto, quindi scegliamo uno a qualsiasi partito, quindi assolutamente casualmente e confermiamo la nostra scelta. A questo punto abbiamo il secondo sistema elettorale, quello della lista aperta, attualmente vigente ad esempio in Francia, quindi anche in questo caso scegliamo assolutamente casualmente il partito ma all'interno del partito possiamo esprimere un voto di preferenza, ribadisco del tutto casualmente questo per esempio e confermiamo la nostra scelta. Infine abbiamo il modello, il sistema elettorale più distante dal nostro che si chiama appunto voto disgiunto e cumulativo in cui possiamo votare per candidati appartenenti a liste diverse, non solo ma possiamo dare fino a due voti per ciascun candidato, fino a un totale di dieci voti. Scegliamo, ribadisco del tutto casualmente i candidati, per esempio due voti, qui un voto in questo caso, eccetera, fino ripeto a dieci voti e confermiamo la nostra scelta. Vuole fare un appello agli italiani per invitarli a votare con Eurovote Plus? Abbiamo bisogno del vostro voto proprio per capire in futuro quale possa essere il sistema elettorale migliore per la nostra Europa.